Oggi ho deciso di fare un'altra breve passeggiata nel bosco perché ha cominciato a nevicare copiosamente come potete vedere e allora ci teneva a fare una passeggiata in mezzo al bosco in questa atmosfera invernale anche perché si sa con la neve ognuno torna un po bambino e quindi un po' di più Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, certo, la tentazione di starsene sul divano a leggere è fortissima prima di uscire, però una volta che uno è in questo silenzio, in questa atmosfera obattata, effettivamente non c'è assolutamente di che pentirsi. Bene, se avete visto altri miei video filmati in questo bosco saprete che adesso sono entrato nella parte del bosco che preferisco, valutate voi se non ho ragione. non è meraviglioso. Grazie a tutti. Non riesco a mettere giù la telecamera. Starei tutto il giorno qua ad ammirare questo spettacolo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.